e purtroppo abbiamo abbiamo iniziato a registrarle perché c'erano un sacco di problemi tecnici in villa purtroppo la linea quella che c'è solo c'è solo la connessione wifi e va va però abbiamo avuto riguardo a tre dirette si bloccava ti dici tu quando possiamo iniziare a possiamo iniziare bene allora re cristo a tutti grazie che qui grazie che ci ascolta ovunque da casa dal lavoro dove siete e il tema che mi è stato chiesto di approfondire questa sera è un tema molto importante centrale proprio nella vita di ognuno di noi e riguarda il trapasso riguarda il momento in cui si va ad abbandonare inevitabilmente questo corpo e qui in uno specifico come affrontarlo quando abbiamo una persona cara di riferimento allora il tema è molto ampio cercheremo di introdurlo da un verso molto famoso della baghava ghita siamo nella baghava ghita capitolo secondo verso numero 13 dei no sminni a tale e dice che all'istante della morte praticamente si trapassa da un corpo all'altro e succede come come se uno lasciasse dei vecchi vestiti per indossare di nuovi questo verso dice la persona che profonda della conoscenza della vita spirituale riflessiva non è turbata da questo cambiamento quindi questo è un livello molto alto di realizzazione spirituale che crista sta spiegando ad arjuna perché al giuro nel primo capitolo della baghava ghita pone tutta una serie di dubbi e di problematiche su quello che lui deve andare a fare chi ha letto la baghava ghita sa appunto che lui sta dicendo ma perché io devo andare a combattere perché devo fare questo perché devo combattere contro i miei amici contro i miei parenti c'è al nonno dall'altra parte a cui tiene tantissimo cioè il zii perché devo fare tutto questo e krishna non è che sta cercando di smontare le sue convinzioni ma sta partendo da una considerazione molto più profonda gli sta dicendo tu vieni da una famiglia di una discendenza dove queste cose sono conosciute e gli ricorda appunto che noi non siamo questo corpo e dice noi essendo questo corpo tu sei l'anima spirituale che sta viaggiando all'interno di questi corpi quindi questa è la prima consapevolezza la prima coscienza che viene data ad una persona accettare per lo meno teoricamente il fatto che non sei questo corpo quindi questo corpo che è un agglomerato di materia a un certo punto o per raggiunti limiti di età o perché succede qualcosa di adesso deve essere abbandonato lo dice le persone in questo in questa situazione impazziscono perché veramente il crollo il mondo addosso tranne quelli che hanno una visione una conoscenza spirituale e questi vedono semplicemente che la vita non finisce ma in realtà continua in un'altra dimensione si dice anche che questa questo questo sapere questa conoscenza almeno deve essere accettato realizzato poi ci andrà un pochettino di più per poterlo realizzare pienamente quando si decide di iniziare veramente la vita spirituale perché spesso noi con vita spirituale parliamo delle religioni parliamo dei percorsi dello yoga parliamo di tante cose ma in realtà le scritture vediche e anche la Bhagavad Gita dice da lì inizia veramente il percorso spirituale da quando comprendi di non essere questo corpo allora per poter fare questo poi vedremo che Cristo spiegherà ad Arjuna tutta una serie di cose che bisogna mettere in atto per poterlo realizzare pienamente e in un certo senso perché qui ascolta bene o male questo la lo accetta lo comprende inizia teoricamente almeno ad interiorizzarlo la domanda è molto più specifica dice cosa noi facciamo con una persona cara che si trova di fronte a questa problematica e persone cara ne possiamo avere di diversi diversi tipi possiamo avere dei cari amici delle cari amiche che stanno seguendo un percorso come noi e quindi avremo un certo tipo di attenzione oppure possiamo avere un familiare parente un amico una persona che a cui siamo in qualche modo legati però non ha questo tipo di conoscenza allora qui viene fuori un pochettino più più problema perché nel momento della morte come dicevo prima le persone sono completamente disorientate ed è un fenomeno che viene trattato anche in tempi antichi viene trattato dai Pandava viene trattato dagli Udhistir che questo il capo il capo di Pandava quando a un certo punto gli si chiede a seguito di una storia molto particolare perché i Pandava si erano trovati sulle rive di un di un lago e qui a un certo punto era comparso una un personaggio una sorta di mago che gli aveva detto se non rispondete ai miei ai miei indovinelli voi sarete morti e così erano morti uno dopo l'altro erano morti Bima erano morti Nakula Saadeva era morto June erano morti tutti e praticamente poi è arrivato Udhistir che era l'anziano e lui ha detto dice sono tutti morti però se tu rispondi correttamente dice a quel punto non solo tu avrai la vita salva ma anche loro potranno ritornare in vita e questo sì questa sorta di mago erano altri che Darmaraj Yamaraj il signore della chiamiamolo così il signore della morte colui che alla fine quando noi lasciamo il corpo in base alle nostre azioni ci indirizza da una parte all'altra e lui gli fece proprio questa domanda dice qual è la cosa più incredibile del mondo e la sua risposta fu dice che le persone nonostante la morte sia un dato di fatto per tutti in questo loro pensano invece che riguardi gli altri e non loro stessi perché le persone ragionano così perché uno dice ma che sono tutti pazzi perché come dico spesso in in questo questa parte dell'universo materiale l'indice di mortalità è del 100% quindi non c'è qualcuno che a un certo punto può pensare di scampare a questa situazione ci sono delle persone ci sono delle persone che hanno una vita molto più lunga addirittura ci sono ci sono alcuni personaggi che che le scritture ci dicono che sono ancora presenti su questo pianeta dalla 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 battaglia di Kulukshetra per una serie di motivi sono ancora qua perché hanno ricevuto delle sorte di maledizioni che devono stare in un determinato contesto ma parliamo di pochi casi parliamo di quasi di qualche persona ma anche loro a un certo punto con tempi molto più lunghi dovranno lasciare il corpo perché la gente sotto sotto a questo sentore di immortalità poi ad esempio il film ai gland questi quali loro trasportano nel tempo facendo vedere che questo corpo rimane lo stesso e prosegue in realtà noi siamo immortali il problema è cercare di andare a identificare che cos'è immortale perché le persone invece pensano che il corpo deve diventare immortale allora vedete come tutta la scienza gli scienziati stanno cercando di trovare degli elisir delle 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 formule delle medicine quello che volete per cercare di allungare la vita e c'è qualche scienziato che promette che nel giro di qualche anno per alcuni perché ovviamente poi ci vanno soldi la vita potrà allungarsi fino a 150 anni che sembra tanto ma nei confronti dell'eternità è sempre uno schiocco di dita quindi è sempre un tempo relativamente breve però questo sentore io non so se voi non ce l'avete mai avuto anche quando era più più giovane più ragazzini sentirsi come ecco diceva io io non morirò questa sensazione di fondo che c'è in realtà è corretta il problema che non muore non muore la vera persona ma questo corpo questo impianto che noi abbiamo questo è destinato a morire ecco che allora le persone cercano di rimandare sempre in avanti questo momento della morte e vedete quando passa un carno furio venuti fanno le corna si toccano allora dice no ma lui sì a me no dice questo è morto ma io dice vediamoci ho ancora da campare poi come sarebbe anche da vedere come vuoi capire si perché poi questo è anche importante capire perché allungare la vita esatto viene considerato un po una perdita di tempo una cosa abbastanza inutile perché a volte hai una vita più breve ma è molto più concentrata e riesce a ottenere molti più risultati questo è un altro argomento che soltanto possiamo possiamo toccare quindi quando noi ci troviamo di fronte delle persone che si sono fatti delle domande sono posti delle questioni hanno hanno fatto delle ricerche per cercare di comprendere ecco l'aiuto nei loro confronti diventa chiaro come noi possiamo intervenire allora noi sappiamo perché nei versi successivi del secondo capitolo è spiegato e anche in questo verso qua stai sento i pensieri all'istante della morte determinano la destinazione futura quindi è chiaro che se tu hai un pensiero positivo spirituale che vuole andare in una determinata direzione per un devoto di cristo vuole andare verso cristo e si si traccia non si traccia il percorso la destinazione successiva e sarà determinata la tua volontà se la tua concentrazione in tal senso tu tenderai a andare in quella direzione se invece non è questo tipo di conoscenza che succede c'è lo sbarrimento totale non sai cosa sta succedendo e quindi ti trovi di fronte ad un momento che è assolutamente inevitabile ma che non sai come affrontare se voi andate in ospedale che dove muoiono oggigiorno la maggior parte delle persone muore in ospedale la differenza di un tempo io mi ricordo passato quando mio nonno è morto e mi ricordo che era un ragazzino questo è arrivato gli ultimi giorni della sua vita hanno detto ai figli volete che muoia a casa o volete che muoia in ospedale e hanno detto vogliamo che muoia a casa quindi hanno portato durato un giorno giorno e mezzo ed è morto lì oggigiorno la tendenza è contraria quindi quando voi vedete gli ospedali c'è nel momento in cui uno muore c'è quasi questa corsa a liberare immediatamente il letto dell'ospedale via via non si deve vedere questa cosa deve essere nascosta deve essere esorcizzata e questo è un problema perché ad esempio io no perché chi è più qualche anno in più di me mi ricordo i miei genitori mi dicevano che quando c'era il nonno lo zio che moriva portavano i bambini a vederlo si portava si portava a vedere si portava sul letto di morte lo vedevano morire vedevano l'ultimo momento era era vissuto come una cosa molto più naturale e quindi veniva accettato anche di conseguenza il questa situazione oggigiorno non si vuole nascondere in un certo modo non ci cerchiamo di allungare fino all'ultimo la vita delle persone e poi quando sono morti via via togliamo tutto non si deve vedere questa cosa quali portiamo direttamente la camera mortuale che non riveda più nessuno è finita la storia c'è una mancanza di naturalezza con di normalità con una cosa invece che assolutamente naturale allora quando noi ci troviamo di fronte a queste persone che non hanno chiaro cosa sta succedendo che succede normalmente c'è un grande smarrimento vedete come gli atei a un certo punto si riconvertono incominciano a sperare che succeda qualcosa qualcuno è incallito avanti fino all'ultimo ma qualcun altro incomincia a diventare più malleabile vedere ma stava succedendo è veramente finito tutto non è finito ecco come noi ci possiamo comportare di fronte a questo generalmente le persone diventano più ricettive più sensibili perché si sono resi conto che la medicina la scienza a un certo punto non può fare più nulla allora a quel punto che fai o ti chiudi su te stesso oppure apri delle possibilità cosa possiamo fare noi per aiutare queste persone cercare di creare una situazione favorevole per loro quindi eliminare tutto il superfluo e possibilmente dandogli un aiuto spirituale anche se le persone non sono perfettamente coscienti e consapevoli di quello che sta succedendo e di grande aiuto creare le condizioni giuste quindi ad esempio aiutarli con un bhajan con dei mantra aiutandoli anche mettendo dei segni sulla sulla fronte che possono essere fatti come pure io col tir ma anche con l'acqua perché a volte può essere un po un po difficoltoso andare da qualche da qualche parente e aiutare in un certo senso a prepararlo di fronte a questa situazione inevitabile e poi ovviamente loro dovranno lasciare il corpo ma quando avranno avuto l'aiuto di qualcuno che gli sta creando una condizione spirituale avrà un grandissimo beneficio tutto questo e volte è così imprevedibile quello che sta succedendo e perché dipende anche molto dal nostro karma dalle nostre azioni precedenti da come noi siamo arrivati a determinato contesto che veramente ha una variabilità estrema a me è capitato quando ero un giovane ragazzo umbra maciari quindi avevo 17 18 anni eravamo andati a prendere delle cose con un furgoncino a un certo punto io mi ricordo che ero si sta viaggiando un po sommecchiavo dato comunque successo un incidente questo furgoncino si è ribaltato fuoristrada e io sono svenuto sono svenuto mi sono poi risvegliato che ero addosso a questa persona potevo essere morto potevo essere morto chi lo sa abbattuto abbattuto la faccia insomma mi sono ritrovato così e mi resi veramente conto che è un attimo perché non c'è una condizione tale che stava chi stava in cui potevi percepire che sarebbe successo qualcosa noi stavamo andando tranquilli per la nostra strada uno ci ha tagliato la strada nel tentativo di evitarlo il pulmino fritto questa quindi si può lasciare il corpo così improvvisamente e quindi questo può capitare a chiunque questo non è per fare l'uccello del malaugurio ma qualche anno fa mi ricordo che c'era una una mamma ferma la fermata del bus che stava aspettando appunto che arrivasse il mezzo pubblico la macchina sbandato ucciso lei bambino c'è questa che stava facendo di così pericolosa aspettando bus quindi karma può agire in molti modi oppure in una maniera totalmente diversa un'altra un'altra situazione che io che mi ricordo un giorno ero ero a casa e avevo conosciuto poco tempo prima un gruppo di persone che facevano delle sorte di meditazione ma erano collegate agli angeli una cosa un po così mi avevano invitato ad andare a tenere una una lezione da loro io andai e quando usci in realtà non riuscivo a capire bene cosa io centrassi in quel contesto ora avevano cercato me come devoto di crisi era andato a fare questa lezione e poi insomma una persona che avevo conosciuto lì dopo qualche giorno mi chiama allora io stavo uscendo di casa stavo uscendo di casa a un certo punto perché lavoravo in periodi stavo andando a lavorare e mi ricordo mi rendo conto di aver dimenticato una cosa importante quindi torni dietro a casa nel momento in cui torno dietro a casa questa persona mi chiama e mi dice c'è la mia madre che sta sta morendo cosa posso fare dice mi sei venuto in mente solo tu ho detto wow e io te mai cosa posso fare non posso venire c'è una cosa importante da fare devo andare lei mi dice dove si trova dico guarda sono tornato a casa sembrava una combinazione ma le combinazioni non ci sono faccio una cosa prendo un pochettino di acqua del gange e avevo mi ricordo una colorina di tulasi gli ho detto ci incrociamo ci incrociamo in quella io te le do tu metti l'acqua del gange la mette nella bocca di tua madre gli metti questa colorina al corpo e preghi per lei e io ho detto siamo incrociati lei ha preso questa questo questo tulasi ha preso quest'acqua del gange e corse in ospedale ha messo l'acqua del gange nella bocca della madre ha messo la colina di tulasi lei ha lasciato il corpo infatti mi ha chiamato e me l'ha detto mi fa wow che combinazione forse non è una combinazione forse krishna ha arrangiato tutto in maniera tale perché questa è una persona che adesso pia o ha fatto chissà che cosa dei precedenti e io e te siamo diventati uno strumento nei suoi confronti e tante sono queste condizioni all'istante della della morte le persone sono smarrite e quando parlavo di mio nonno io quando mio nonno in quel alascio il corpo lui ormai era in una sorta di coma non rispondeva a nessun tipo di stimolo quindi moglie figli nipoti niente zero immobile nel letto quando io ero solo con lui gli recitavo il mamanta nell'orecchio e lui si agitava si metteva a mormorare così io di quando ho visto questa cosa ho provato anche a cantargli qualcos'altro e non succedeva assolutamente nulla nel momento in cui gli recitavo il mamanta lui cominciava a muoversi tant'è vero che mi ricordo che nel cuore della notte mia nonna dice ma cosa gli stai facendo sto recitando una preghiera diciamo così e fa e perché si acida lascia lo stare che sta più tranquillo no no agitare perché c'è qualcosa di buono che sta succedendo in lui quindi di fronte a una persona cara noi possiamo aiutarli se sono consapevoli se accettano cercare di farli entrare in questo tipo di di atmosfera questo tipo di mentalità questo tipo di trasporto di modo che loro diventino consapevoli di quello che stanno facendo se invece non riescono e non vogliono e vogliamo aiutarli cerchiamo di creare delle condizioni concludo poi lascio a voi le domande continueremo ok quello che noi stiamo cercando di fare ad esempio con gli ospedali perché come ciò che molti muovono in ospedale e cercare di far sì che le persone possano in un momento così dedicato scegliere un pochettino dove vogliono andare e non è semplicemente un discorso di dire ma io c'ho la mia credenza religiosa quindi faccio i miei rituali o d'altro molte persone soprattutto oggigiorno non cercano quello cercano veramente una una risposta e un sostegno concreto in quel momento così difficile quindi si sta cercando anche di sensibilizzare maggiormente il personale ospedaliero in tal senso quindi non semplicemente andando lì facendo una cerimonia perché quella può essere utile ma cercare di aumentare o cambiare la coscienza delle persone prego come affrontare la morte ma i nostri clienti nel senso come affrontare la perdita di qualcuno che è andato come come elaborare questo lutto come elaborare questo lutto e questo ovviamente non è una cosa semplice immediata che ha una risposta unica perché nonostante noi abbiamo questa comprensione che non siamo questo corpo quando poi le cose ti toccano da vicino quindi toccano negli affetti e questo diventa un grosso dramma proprio l'altro giorno ne parlavo con un devoto che mi diceva sì io capisco tutto però mi ha lasciato una persona molto cara a me e soprattutto poi quando parliamo di persone molto cariche sono vicine a noi semmai sono più giovani di noi che dire quando succede con un figlio quando succede con una persona perché sai si accetta più facilmente che muoia il nonno di 80 anni quando invece a lasciare il corpo a qualcuno di molto più giovane bisogna trovare le motivazioni cercare di comprendere che lui sta facendo un suo percorso e questo suo percorso può può anche apparentemente essere un percorso che noi non riusciamo a comprendere ma potrebbe non essere negativo ad esempio mi viene in mente di un ragazzo di un devoto che io conoscevo da quando è nato ho lasciato il corpo qualche anno fa molto giovane aveva 25 anni quando ha lasciato il corpo di un alti incurabile il genitore ha cercato di fare di tutto per aiutarlo ma non è stato non è stato possibile guardando quel caso specifico con un distacco diciamo che può avere chi guarda dall'esterno no perché questo è il punto in realtà questo ragazzo è cresciuto all'interno della della coscienza spirituale lui per una serie di costituzioni di formazione eccetera non ha avuto la possibilità in questo in questi 25 anni di vita di entrare troppo nelle dinamiche della materia è stato un pochettino sempre un po in margine certo andava a scuola studiato fatto questo è stato in margine non è stato troppo coinvolto non so neanche se mai avuto una 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 fidanzata reale oppure cioè tutte cose molto 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 blande no e quando lui ha lasciato il corpo era circondato da devoti circondato da persone che gli volevano bene e andai io a trovarlo anche negli ultimi giorni della 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 sua vita e sostanzialmente lui chiedeva che ci fosse ma mantra che stesse allora da un punto di vista materiale questo un dramma perché ti lascia il corpo un ragazzo giovane uno le lascia immaginare i genitori cosa cosa possono pensare da un punto di vista spirituale su una guarda da un'altra prospettiva lui probabilmente non aveva terminato il suo percorso nella vita precedente gli mancava un pezzettino e quel pezzettino lì che lui ha fatto è stato sufficiente a chiudere il cerchio e probabilmente andarsene veramente da questo mondo materiale quindi diciamo che da un punto di vista spirituale uno dovrebbe guardarle da un punto di vista molto più oggettivo le cose è chiaro che il sentimento ti prende e non si può far finta di nulla non si può dire no ma tanto siamo tutte anime spirituali eterne questo corpo è temporaneo e vabbè pazienza voglio dire si vede che non funziona così per lo meno è impossibile ragionare però dobbiamo fare lo sforzo di andare da un'altra parte cercare di comprendere come tutti noi stiamo seguendo un percorso e questo percorso ha una sua funzione ha una sua utilità quando tu stai completando semmai questo è importante comprendere anche qual è la funzione che noi abbiamo in questo in questo universo perché un concetto fondamentale è che tutti noi cerchiamo di sviluppare il nostro sanatana dharma sanatana dharma è il nostro dharma eterno sanatana significa eterno il nostro dovere la nostra connessione con l'energia cosmica eterna ma poi abbiamo anche uno sva dharma o nei mitica dharma questi sono i dharma temporanei quelli che sono legati a questo nostro corpo ad esempio quando noi parliamo di astrologia che è un tema caro a molti l'errore grossolano che fanno tutti andare a cercare le risposte soldi amore fortuna questa è l'astrologia questo secondo tutta la scienza medica è un errore e queste sono cose estremamente secondarie che non hanno una rilevanza quello che è importante nell'astrologia è andare a comprendere tu a che livello sei evolutivo nel percorso di realizzazione spirituale e sulla base di quello capire su cosa tu devi andare a lavorare all'interno della tua vita allora per fare un esempio per qualcuno potrebbe essere lavorare sull'autostima per qualcun altro invece potrebbe significare invece abbassare la troppa autostima ognuno ha un po un po le sue cose in cui vieni messo alla prova quando tu concludi quello quello sva dharma tipico di quel corpo tu in realtà sei pronto a passare una forma di vita superiore quindi è molto è molto scientifico questo processo allora noi cosa possiamo fare da spiritualisti possiamo comprendere che nulla è all'interno delle nostre mani cioè nulla è nelle nostre capacità o meglio noi possiamo decidere dove andare ma in realtà stiamo seguendo il nostro destino che poi possiamo migliorare o incrementare e sulla base di questo diventa non dico più facile ma un pochettino più articolato il fatto di dover andare ad accettare un lutto soprattutto se è un lutto prematuro ovviamente noi riusciamo a trovare una risposta quando andiamo verso la spiritualità al momento in cui rimaniamo invece un po chiusi sul piano materiale diventa un lutto praticamente non elaborabile faccio un esempio molto pratico quando mia figlia aveva 19 anni quindi parliamo di ragazzi molto giovani una sua amica ha lasciato il corpo in un incidente stradale assurdo assurdo si non si era messa la cintura ma non è che abbiano fatto chissà che incidente comunque lei alla fine ha fatto questo incidente lei è stata sbalzata fuori dalla macchina e ha lasciato il corpo no 19 anni quindi volete è un dramma per tutti immaginate amici conoscenti genitori i genitori io mi sono trovato perché erano persone che conoscevo bene e dire cosa facciamo perché loro non erano delle persone dedite alla vita spirituale allo stesso tempo io non potevo andare lì poi solo loro conoscevano molto poco di me non è che mi conoscevano come uno spiritualista un papà della loro amica andavano a scuola insieme eccetera eccetera e quindi mi sono trovato di fronte a questa cosa posso fare io per loro perché loro ovviamente il dramma era terribile tu ti ritrovi tua figlia che è uscita di casa e non è più tornata indietro cioè che fai di fronte a una cosa del genere figlia unica tra l'altro disperazione totale come ci possiamo muovere io gli ho provato qualche parola di conforto gli ho detto guarda io vi potrei aiutare a mettere qualcosa di rilassante all'interno della vostra casa questo per cercare di creare una situazione diversa e gli diedi un cd con il canto del mantra ed era molto melodico era veramente un bello rilassante tranquillo rapacificante eccetera non lo misero per un pochino e poi mi dissero no ci distoglie dal nostro dal nostro dramma questo e me lo ridiedero indietro non hanno più voluto ascoltarlo e a distanza ormai sono passati 12 13 anni da questa da questo evento quando li incrociano non sono ancora completamente fermi su questo piano sono ancora come se la figlia avesse lasciato il giorno prima e probabilmente questa situazione non li abbandonare per tutta la vita e io ho provato a dirgli guardate che bisogna andare oltre perché questo è successo e può essere una questo questo lutto per lei ha avuto un suo percorso ma è anche per te che deve generare un altro però loro stanno facendo nel caso di queste persone un passo verso il quello che potrebbe essere invece un piano che gli aiuterebbe veramente che un piano di ricerca spirituale continuano a rimanere fermi su questo punto hanno hanno cercato di organizzare dei premi in ricordo della figlia tutte cose che però non vi sta non gli sta facendo trovare la servità dovuta quindi un po' quello che posso dire io non è non c'è la risposta scontata e banale e unica per tutti però alla fine della risposta riusciamo a trovarla quando riusciamo a entrare più in profondità nella vita spirituale e l'aiuto arriva anche a loro questa consapevolezza che noi dobbiamo avere e che nel momento in cui noi soprattutto se sono le persone molto vicine se noi curiamo la nostra vita spirituale loro ne hanno dei benefici in tutta la tradizione vedica proprio questo è spiegato chiaramente e addirittura i figli sono esortati a fare delle pratiche che non sono semplicemente dei meri rituali ma lanciare degli aiuti nei confronti di queste persone che hanno lasciato il corpo tu non fai il rituale perché devi farlo tu stai facendo un rituale di supporto a loro quando vai davanti a una divinità e fai questi pinda sono questi sacrifici che vengono fatti in ricordo delle delle persone passate tu stai un po come se loro si trovano in un'altra condizione di vita e tu gli stai lanciando dei supporti cioè semmai loro stanno facendo tutt'altro e tu in qualche maniera stai esortando un devoto a portargli una bhagavaghita per cercare di aiutarli perché loro stanno continuando nel loro percorso e quindi se loro sono sono venuti in contatto con delle persone che gli hanno comunque fatto aiutati a trovare un po di spiritualità dall'interno della loro vita il loro percorso viene migliorato notevolmente se poi queste persone sono addirittura delle strette persone vicino a loro hanno un diretto beneficio perché non dimentichiamoci che quando noi ci muoviamo all'interno del del percorso della vita lo facciamo con delle persone quindi quello che oggi ci abbiamo delle persone con cui ci muoviamo strettamente in connessione che sono degli amici gli amici molto intimi vedete come come succede quando noi abbiamo iniziato ad andare a scuola comunque ha iniziato ad avere una vita sociale ci sono delle persone con cui abbiamo legato immediatamente altre invece con cui noi non leghiamo nonostante abbiamo avuto le stesse condizioni non riusciamo a legare è una questione di affinità karmiche no ci sono delle affinità karmiche anche quando ci sono le persone che sono molto vicine a noi o addirittura che sono nostri compagni compagni di vita marito moglie quello che sia figlio ed altro sono persone che hanno affinità karmica molto stretta con noi e man mano che questa affinità karmica e diventa più stretta diventa sempre più vicino questo contatto essendoci essendo vicino a questo contatto si porta avanti nel tempo lo vedete chiaramente ad esempio quando ci sono delle coppie che sono al massimo della loro affinità karmica e quando lascia il corpo uno generalmente dopo poco lascia l'altro il corpo e perché hanno anche un legame molto stretto quindi loro lasciano e si stanno già riproiettando in una vita in una vita successiva insieme a volte questi questi legami invece si sciolgono stanno facendo questo caso bisognerebbe capire perché perché se non c'è se tu fai così perché non ci deve essere assunzione di responsabilità questo non hai risolto il problema ti tornerai indietro in un altro modo c'è il punto e soprattutto quando uno pratica yoga lo stare con un partner e continuare con lui è una convenienza molto pratica voi tutti studiate i chakra sapete quanto sia difficile armonizzare i chakra eccetera 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 quindi è un grande sforzo quando una persona entra nella cosiddetta area di prossimità sapete cosa significa qual è l'area di prossimità l'area di prossimità è quella quello che sta una spanna dal tuo vaso proprio questo è un termine è un termine medico viene usato anche in medicina questo pensateci prossimità area prossimica di prossimità no allora tu quante persone fa entrare la tua area di prossimità e per quanto tempo no perché c'è l'amico che gli dai un bacino poi ti stacchi no due figli il compagno la compagno fa entrare delle persone molto specifiche quando con chi stai a lungo stai con una persona che con cui sei molto vicino con chi stai seduto sdraiato nel letto abbracciato ecco non mi erano tutti non è che tutti ma dice vieni qua stiamo ma non perché hai qualche non ce la fai dopo un po devi devi staccare perché perché da un punto di vista tecnico i chakra si muovono quando si entra nell'area di prossimità si entrano in movimento i chakra di entrambi l'armonizzazione di questi due chakra è fondamentale per poter creare un'unione che possa essere generale delle 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 prospettive future di lavoro di collaborazione ecco perché lo yoga ad esempio ti dice che i partner non va bene cambiarli cioè devi trovarne uno e poi andare avanti con lui perché comunque tutta questa armonizzazione deve essere proiettata nel tempo la gente che fa oggigiorno non fa questo tipo di ragionamento ha tutto una una un lavoro invece sulla sul piacere sensoriale che viene generato dal vedere una persona dal suo aspetto fisico dal suo modo di essere eccetera che procura un piacere sensoriale immediato quando questo piacere sensoriale immediato finisce perché ti viene annoia quella persona perché è passato qualche anno quindi non è più così bello così bella come la prima è cambiato qualche cosa non c'è stato l'evoluzione tutto questo si cambia no questo in realtà porta a un continuo squilibrio all'interno dei dei chakra e quindi queste persone generalmente che cambiano molti partner sono persone che non sono molto equilibrate non sono molto serene dentro sembra perché cosa fanno cercano sempre la novità sembra di essere pagato poi dopo un po' sono di nuovo al punto di al punto di partenza quindi se uno cambia su questa base è perché deve diventare un pochettino più profondo se invece cambia perché a un certo punto è finita una un legame cardico questo si è esaurito questo si va a spegnere naturalmente quindi questo semmai nella vita questa vita eravamo due compagni strettamente legati poi questo pian piano si va poi semmai nella vita successiva diventi cugino diventi questo diventi quello diventi quell'altro i veda cosa dicono questo pacchetto di persone che sta con te sta viaggiando con te allora se tu diventi questa è una bella notizia se tu diventi realizzato spiritualmente il beneficio non va solo a te ma va anche a chi ti sta intorno per generazioni in avanti per generazioni indietro perché generazione avanti generazione perché sono sempre gli stessi che stanno muovendo con te capito quindi è un grosso vantaggio il nonno che apparentemente non aveva nessuna conoscenza spirituale o d'altro se tu ti realizzi spiritualmente lui beneficia esattamente come 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 stai beneficiando tu nella famiglia la persona che questo una volta era era un compito fortemente demandato agli uomini loro avevano proprio il dovere di andare a cercare l'equilibrio spirituale in loro stessi nella famiglia in un certo senso in Kali Yuga saltano tutti gli schemi ma le mogli vivevano un po' a rimorchio cioè nel senso lui fa il lavoro ok io mi accodo e adesso nell'era in cui viviamo che saltano un po' tutti gli schemi quindi non è che non è più così chiaro perché perché c'era questa 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 sforzo questa questa direzione chiara abbiamo ad esempio nello Shima Bhagat abbiamo ad esempio di di Karda Mamuni di questo yogi che a un certo punto lui capisce che nella sua vita manca qualcosa non riesce a trovare lui perfettamente controllato yogi possedeva tutti i poteri mistici capisce che c'è qualcosa che non che manca e gli sta mancando questo equilibrio con 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 la con la parte femminile allora lui si rivolge lui al potere di chiamare visto quindi dopo decine di migliaia di anni di meditazione arriva visto e lui dice ci va la moglie e allora si rivolgono a Svayam Bhuvamano che Svayam Bhuvamano è l'imperatore quindi lui cosa fa vede questo la figlia che una principessa quindi la principessa la figlia dell'imperatore immaginate come poteva vivere e gli dice guarda che lui è il partner giusto per te questo come viveva viveva in una capanna mangiando qualche bacca ogni tanto bevendo qualcosa se si ricordava e tutto concentrato in meditazione tutto il giorno lei va e da essere una 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 principessa con tutte le ancelle intorno si mette a fare la vita che faceva lui allora lui continua a vivere così e quindi lei comincia a diventare a essere trasandata lasciarsi andare eccetera eccetera finché un giorno lei va al fiume si specchia non si riconosce più tutta tutta brutta malconciata eccetera lui si accorge di questa situazione dice forse così non trovo l'equilibrio anzi metto in disequilibrio anche lei e cosa fa con i suoi poteri mistici a lui ha il potere addirittura di creare una città una città volante che può andare all'universo e quindi ricrea gli ridare gli stessi tipi di di situazioni in cui lei viveva e poi ha dei figli ha delle figlie ha dei figli vanno addirittura un figlio con lui e questo figlio sarà capila capila deva che una manifestazione di cristo quindi lui trova questo questo equilibrio e poi quando questi quelli sono trovato quando arriva addirittura cristo nella sua forma di capire poi li tornerà adesso noi yogi però hanno beneficiato tutti in questo tipo di situazione se tu prendendo lui come come ispirazione non perché poi non possiamo evitare lo caravamo capiamo che all'interno della nostra vita la realizzazione spirituale è importante e chi ci sta intorno anche se non riesce a essere al nostro livello riusciamo a legarsi riusciamo a stare insieme abbiamo benefici per tutti il problema invece che la gente esclude tutto questo aspetto della conoscenza spirituale normalmente e poi quando gli viene qualcosa noia di materiale si stufano e cercano di cambiare e cercano di cambiare cercando di risolvere il problema usando le stesse cose che hanno generato quindi tu perché a un certo punto hai lasciato quel tuo partner perché c'era qualcosa che non andava come che cos'è che non andava nella vostra relazione era un qualcosa perché mancava di profondità o perché semplicemente non ci si procurava più il piacere sensoriale che potremmo avere prima da un punto di vista materiale chiamiamolo così tutto diventa lecito quindi mai stufato me ne vado ciao da un punto di vista spirituale invece diventa una perdita perché poi tu devi ricominciare da capo devi ricominciare da capo devi mettere equilibrare energie trovare la giusta dimensione ora solo quando tu riesci a fare quello anche la relazione di coppia si può evolvere su qualcosa di più stabile perché se rimane su un piano fisico dura poco se rimane su un piano emotivo dura un pochettino di più ma dura poco se rimane semplicemente su un piano di protezione reciproca è un pochettino più stabile ma sono tutti nelle profonde variabili che nel momento in cui entra qualcosa di più sconvolgente possono possono saltare da un punto di vista invece di un'unione spirituale questo dura molto di più allora uno la cosa che si deve fare la domanda che si deve fare quando io mi metto con una persona perché lo stiamo facendo è chiaro che quando sei specialmente quando uno è molto giovane c'è questo trasporto no wow che bello sto bene con lui con lei o con chi sia ma andando avanti deve muoversi deve deve evolversi e questo lo puoi fare se c'è una conoscenza spirituale la conoscenza spirituale bisogna coltivarla quindi è un po quello il il segreto che poi ci permette di andare anche elaborare tutti questi lutti pensare ad esempio che semplicemente perché io aderisco ad una a un percorso religioso spirituale adatto sia sufficiente per per elaborare questi minuti non è non è non è possibile è una pura utopia quando entro in profondità e riesco veramente a realizzare che non siamo questo corpo siamo persone di passaggio che le persone che mi vengono mandate sono persone di cui mi devo prendere cura cioè pensate la differenza i veda cosa dicono ad esempio quando due persone hanno un'unione intimo nel sessuale per avere un figlio loro in realtà stanno chiamando una persona dal dall'universo che più o meno ha la loro stessa e sintonizzato con lo dovrebbe essere così per fare cosa ne prende sicura di questa anima spirituale di creare le condizioni favorevoli attraverso le quali si possa realizzare spiritualmente quanti farlo questo ragionamento pochi allora quando tu invece questo ragionamento non c'è ed è basato su un piano materiale nel momento in cui si rompe questa cosa finisce tutto e poi voglia cercare di andare a elaborare il lutto al lutto lo elabori nel momento in cui c'è una conoscenza profonda di questo e la prima cosa che tu comprendi che tu non sei il padrone di tuo figlio di tua figlia di tua moglie di tuo marito sei un compagno di viaggio che ti è stato affidato temporaneamente e che può vivere insieme per il periodo che è necessario per poter migliorarsi spiritualmente per completare un ciclo che potrebbe non essere esattamente quello che noi pensiamo che debba essere e tutti vogliono vivere cent'anni in perfetta forma semmai non è così ci sono altri piani per quelle persone e a volte quando uno fa delle cose che semmai non sono utili addirittura i veda dicono forse è meglio che questo finisca la vita prima perché evita di continuare a fare dei danni però tutto questo avviene con ghiana la conoscenza e di ghiana la conoscenza realizzata quindi io conosco studio la teoria poi dopo praticando interessante cosa dice cristiana la baghava ghita verso molto famoso è uno è chiamato un ricciato un sloca sono i quattro versi chiave della baghava ghita dice tesam satata aiutta namba jatam priti purvakam dadami buddhi o gantami e la mamma pari anti me a coloro che mi servono con amore e devozione io do l'intelligenza con la quale potranno venire a me questo è interessante perché tu dici studi conosci ma se poi applichi metti in pratica questa questo questo servizio questo gesto questa offerta di amore io ti do la conoscenza con la quale incomincerai a vedere il mondo come gira realmente dividendolo fra materie e spirito eccetera e riuscirai a trovare la giusta collocazione anche delle persone però questa conoscenza ci permette di elaborare anche le situazioni più complesse altrimenti tendiamo mi fermo poi tendiamo a a di nuovo a giudicare le cose da un punto di vista di piacere sensoriale e questo tendiamo a dividere questo mi procura piacere bello questo non mi procura piacere brutto c'è un esempio molto crudo ma il reale è ancora vivo questo momento io ho una famiglia non sono devoti di crista questi sono gli amici seguono tutt'altro i percorsi questi hanno avuto due figli una figlia assolutamente normale un figlio con una malattia praticamente questo ragazzo è nato e non ha mai comunicato con loro è quasi a livello vegetativo deve essere guardato 24 al giorno questo ragazzo adesso avrà penso circa 30 anni e 30 anni che vivono così una schiavitù uno potrebbe dire questi non si possono muovere di casa per andare via un giorno devono mettere in moto tutta l'assistenza di associazioni che per aiutare non stai a stare lì allora lui dice come vive una situazione del genere lo vedi come un karma terribile allora io una volta ero con loro perché abbiamo fatto un programma a un certo punto è arrivata una telefonata da casa che il ragazzo sembrava essersi aggravato e lui aveva sempre queste crisi e i genitori sono scoppiati a piangere sono corsi via subito poi la cosa si è rientrata sono tornati io la domanda glielo ho fatta e gli ho detto ma scusa ma la maggior parte delle persone in fronte a una situazione del genere loro pregherebbero Dio chi sia per porre fine e direbbero così facciamo smettere a questo ragazzo di soffrire e anche tutta la pena che hanno i genitori a stare dietro a questa situazione sapete qual è stata la loro risposta mi ha detto lui è stata la più grande fortuna che abbiamo avuto noi e io ho detto ma spiegami perché perché mi ha detto noi eravamo delle persone come tutti quindi ci piaceva andare in giro ci piaceva fare un sacco di cose ma la spiritualità non era presente nella nostra vita o perlomeno era una cosa molto blanda il fatto di dover prenderci cura di lui ci ha lasciato molto più tempo per riflettere noi abbiamo potuto andare più in profondità della nostra ricerca spirituale e quindi trovare delle risposte reali alla nostra vita quindi lui l'abbiamo visto come un dono che ci è arrivato wow questo è maturità spirituale perché tu nonostante sia arrivato una prova molto forte che i più rifiuterebbero io io in primis non sarei non so quanto sarei in grado di sopportare una cosa del genere questi hanno capito che quella era un'opportunità allora quando le persone comprendono che le cose non si dividono in buone e cattive secondo il piacere sensoriale che procurano ma si dividono in buono e cattive in base all'avanzamento spirituale che ci fanno fare il termine crisi non so se chi chi si ricorda ha studiato greco o ha fatto qualcosa crisi in greco significa trasformazione e se noi guardiamo alla nostra vita probabilmente scopriremo che i momenti in cui abbiamo subito delle trasformazioni più profonde sono a seguito di episodi o di situazioni non positive vero ci hanno spinto a guardarci allo specchio a guardare a entrare dentro di noi un lutto spesso e questo è stato questo che ha generato un cambiamento un lutto molto forte molto sentito ma tu puoi di fronte a queste cose puoi fare una scelta o continuare a struggerti per tutta la vita o dall'altra parte invece comprendere che quella è un'opportunità che quella persona non è morta è finita quella quell'esperienza che lui aveva e questa è questo generato un'opportunità per te per lui soprattutto se gli sei vicino per poter continuare ad aiutarlo anche in una fase successiva però per fare questo si prevede una maturità spirituale e chi può e chi coltiva e chi può avercela deve al dovere perché anche una maggiore visione spirituale comporta una maggiore responsabilità invece quando non hai visione non hai nulla va tutto bene tanto io che ne so sono ignorante invece quando non sei più ignorante viene fuori anche una maggiore responsabilità appunto nei confronti della vita delle persone spero di non avermi confuso e lui diceva se una persona è di certo credo c'è l'utile andare a parlare di altre cose che lo rificheranno sicuramente per cui ci sarebbe bene creato intorno un ambiente c'è anche un innanzitutto della della sua credo c'è questo corrisponde a quello che si sente sta lasciando questo potrebbe essere una sicuramente una cosa buona e non dimentichiamoci che non abbiamo la religione che è sopra tutte tutte le altre secondo piano non è così tanto intanto quando parliamo di crisi di coscienza di crisi non parliamo più di una religione ma parliamo dello stato di coscienza naturale di ogni essere vivente poi non ti piace chiamarlo crista chiamale in un altro modo ma sempre di lui stiamo parlando le persone quando sono legate al loro credo ovviamente sono cresciute in un certo cultura fa fatica andare a dire però questo credo qualunque esso sia ha un messaggio molto profondo all'interno cosa che spesso le persone non riescono a comprendere o o perlomeno non riescono a vedere quando noi parliamo ad esempio parli del cattolicesimo parli di gesù ma se tu vai a vedere i valori che trasmetteva gesù sono valori assolutamente la ishnava quindi non c'è una differenza lui li ha chiamati in un altro modo ma che cosa ha fatto Gesù dire dire di real di reale cosa ha fatto cosa è la cosa più importante che lui ha fatto che cosa ha dato alla gente l'amore per cosa per tutti gli esseri e in riferimento a chi a cristo mi piace chiamarlo crista chiamolo padre riferimento a lui quindi sta parlando di batti quindi questa è l'essenza dell'insegnamento quindi se noi possiamo creare le condizioni e far comprendere queste persone va bene non è che devi andare a sostituire una persona di 92 anni delle sue credenze va bene aiuta ad andare in profondità martino datà pur che era un maestro maestro del 1800 quando lui 1800 parlava di dialogo interreligioso quando nessun altro ne parlava di questo sai cosa diceva lui diceva che per fare un reale dialogo interreligioso bisogna adempiere in profondità la propria tradizione religiosa quindi lui diceva non è che bisogna cambiare come anche prova non ha mai detto che bisogna cambiare per detto ma tu sei un cristiano sei un cattolico ok diventa un buon cristiano perché se tu diventi un buon cristiano cosa cerchi l'amore per dio cerchi la batti cosa cerco un vaishnava cerca la batti la centro cosa cerco un musulmano l'amore per dio con modalità diverse quindi se tu lo aiuti ad andare sul valore di fondo non tanto sul rituale che quello mezzo il rituale l'errore grosso che fanno e questo ha una sua logica una sua spiegazione anche in tutta la l'analisi della dell'analisi vedica si dice quando le persone sono concentrate troppo sul rituale sulla cerimonia su quello che sia in realtà stanno perdendo di vista l'obiettivo perché i cerimoniali dovrebbero essere delle modalità in cui tu esprimi il tuo amore allora tu lo esprimi in un modo tu vieni al tempio viene fatto l'artic no alle divinità viene offerto un fuoco bello scenografico e quello il fine di farlo in maniera più elaborata possibile no proprio diceva attenzione a quelli che lo fanno diventare un mestiere qui sono quelle pericolose molto più importante il sentimento di batti quando tu canti è importante quanto tu fai uno show bravo ha tutto elaborato oppure invece il sentimento con cui lo fai certo se uno è stonato insomma lo facciamo che lo facciamo a cantare quando siamo solo tra amici no perché questo è anche importante però se una persona segue aiutarlo ad andare in profondità questo questo è di grande aiuto quindi tua madre ossia ossia che tu stai seguendo questo va bene ok sei andata nella moschea nella chiesa quello che vuoi per tutta la vita perché comunque un tuo slancio c'era ecco cerca di andare più in profondità Gesù ha fatto questo quindi qua parliamo in un contesto prevalentemente cattolico Gesù ha fatto quello è andato da persone che tecnicamente erano squalificate perché addirittura erano altro che fuori casta questi erano proprio gli esclusi dalla società facevano non avevano accesso all'istruzione non avevano niente e lui ha fatto ha dimostrato che anche andando dalle persone più cadute e dandogli l'amore per dio poteva attivare una trasformazione nel loro cuore e cosa ha fatto cittadino ma proprio da chi è andato è andato dai bramini di casta è andato dai più caduti perché il potere della della bacto il potere del tavolo è trasformato quindi le persone rimangono spesso chiuse sul loro mondo che culturalmente sono nati in egitto e gli dice a uno di della bacto gli parli capisce più nulla anzi si arrabbia pure no vai sui suoi valori poteste anche rischiare qualcosina puoi rischiare anche qualcosina se trovi qualche ma anche qua qui se mai ecco non è non è così drammatica la cosa però il punto è che se le persone non vanno in profondità poi dopo si perde io un giorno ero su un aereo che stavano fatto uno scalo in un paese medio orientale stavo tornando e a un certo punto avevo il mio giapo in mano e stavo recitando un altro di fianco a me c'è un ragazzo che continua a guardarmi 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 la vedeva che era curioso no? hai scelto tutti ma cosa fai? e io ho detto ma tu sei musulmano? mi fa diciamo così no? marocco quindi un paese molto liberale e gli ho detto guarda mi ho fatto vedere il giapo e gli ho detto vedi ma tu ce l'hai no? c'hai anche tu qualcosa per recitare i nomi di Allah e lui mi ha detto sì ma a me non mi interessa questa cosa e gli ho detto non ti interessa? si dice no ma mi interessa cioè per me quelle lì sono robe dei vecchi e gli ho detto ma scusa la tua famiglia? e la sua risposta è stata la mia famiglia va il venerdì in moschea perché sennò i vicini di casa li additano e dicono e dicono che questo qua non va bene ma qua da noi qualche anno fa non era così uguale se non andavi la domenica messa ti puntavano il dito diciamo ah vabbè questa cosa fa il problema è che bancando la profondità dopo un po' queste cose vengono a noia oppure non interessano più soprattutto quando ti rendi conto che tu vivi ugualmente senza un prete senza un imam senza un bramana tu fai la tua vita uguale e tante volte questi qua ti hanno messo in testa dei sensi di colpa o tutta una serie di cose che dovevi fare perché se no non eri una brava persona che hai scoperto che anche se non le fai fa fa lo stesso e allora lasci perdere allora perché devi seguire la religione non la segui più perché ti manca la realizzazione spirituale ti manca la profondità in questo allora quando le persone che si professano credenti arrivano in quel momento bisogna aiutarli ad andare a fare questo passo ulteriore usando il loro linguaggio quello che diceva Ferrini nel suo seminario non è sbagliato lui diceva cerchiamo di aiutarli per portarli sul messaggio della Bacti perché proprio quando diceva guardate che questi testi sono autentici il problema è come leggerli perché se tu li leggi in maniera superficiale ottieni un risotto superficiale se tu vai in profondità che ha fatto Gesù di nuovo ha portato il messaggio della Bacti profondo e cosa ha anche detto tra le varie cose che ha detto ha detto non date le perle ai porci quindi non andare a dare grandi concetti di conoscenza a chi non è in grado di comprenderli ma il messaggio della Bacti invece è universale quello può arrivare a tutti allora se tu aiuti ad entrare in profondità in queste cose allora tua madre, tua zia, tua nonna eccetera lo accettano e vedono te come un qualcuno che semmai sta seguendo lo stesso percorso in un modo un pochettino diverso diventa più accettabile invece quando gli poni di fronte ad una scelta dire tu hai fatto così non hai sbagliato devi fare come ti dico io la prima reazione è una cosa di rifiutare certo mi piace pensa a quanto culturalmente Gesù invece ha cercato di aiutare le persone nonostante non ci fossero le condizioni nella famosa ultima cena cosa si è mangiato quell'ultima cena lì? non ricorda che io sostanzialmente ha mangiato due cose hanno mangiato l'agnello e hanno mangiato il pane cosa ha offerto Gesù? l'agnello e il pane quello faceva parte della cultura c'è queste persone che vivevano in quel contesto ancora adesso vai in Africa semmai nelle zone più povere o comunque così e l'uccidere un animale è visto come un qualcosa di grandioso come segno di ospitalità Gesù era un esseno quindi lui veniva da un gruppo di vegetariani esseni sono vegetariani quindi loro mangiavano la carne il messaggio qual era? io tollero quello che tu stai facendo non è che lo sto e ti aiuto ti insegno ad offrire qualcosa a Dio il segno è importante fai un'offerta un'offerta d'amore non ti offro l'animale chiudo un po' gli occhi non lo sto approvando ma visto che tu culturalmente non riesci ad andare oltre questo cerco di darti un aiuto un appiglio c'è una storia anche famosa di quando Battisidanta Sarasvati il maestro di Prabhupada mandò prima di Prabhupada lui mandò dei sagnasi in occidente li mandò in Inghilterra li mandò in Germania in quel momento c'erano grandissimi studiosi e quando loro tornarono indietro dissero guarda che lì una battaglia persa con queste persone perché loro sono talmente immersi nel materialismo che non riescono neanche a smettere di mangiare la carne e Battisidanta non è che si è messo a dire ah ma scalzoni demoni non si hanno capito niente sapete cosa ha detto lui insegnategli ad offrirla ma non perché gli stava gli stava liberalizzando il consumo di carne almeno se loro hanno un gesto di riconoscimento verso quello che stanno facendo lo vedono come un qualcosa che devono rioffrire a Dio fanno un passettino in avanti non li stava esortando dire adesso va adesso neanche noi siamo vegetariani gli stava spingendo a fare un gesto di riconoscimento un gesto di offerta a Dio quindi se noi riusciamo con queste persone che sono così una persona anziana dentro quella cultura che per loro è stato insegnato per tutta la vita che quello è il modo giusto noi quello che possiamo fare da Vaishnava da Devoti è cercare di aiutarli a fare un passettino in più e se lo fanno è un grande beneficio per loro quindi ricreare quelle condizioni cercando di fare di fargli comprendere qual è l'insegnamento profondo di Gesù che non era quello di creare una religione in antagonismo con gli altri era di creare un messaggio che potesse essere universale poi è così nella realtà non lo so cerchiamo però di andare al messaggio originale è tardi? è qualcosa prego se il contatto con la vita spirituale avevo comunque la consapevolezza che appunto l'emozione di questo corpo non ti lo c'è tutto qua a me personalmente quello che mi aiuta tantissimo nelle cose brutte che capitano nella vita è la consapevolezza che sei lì se la sto vivendo c'è un motivo se è successo qualcosa di brutto significa che devo imparare qualcosa esatto e un'altra cosa bellissima se la vita ne ha messi davanti è perché mi sono bravi dietro un po' esatto è proprio così cioè nel senso sono progetti che a me personalmente ovviamente parli nostri appunto come noi non siamo questo corpo tra l'idea di farci almeno il mare per l'amore di Dio però adulta proprio mi vedete qualcosa più leggero non so come dire cioè non ti soffermi sul dolore non ti soffermi su quella cosa oh mio Dio e ci crei tutto ma cioè la vedi con un'occhi diversa quando entri nella vita spirituale quando vai in profondità riesci a vedere le cose in una maniera come la visione sempre in questi versi qua capitolo secondo Cristo a un certo punto c'è un altro verso molto famoso e dice effime reggioni dolori effimele vanno e vengono come l'estate e l'inverno sono dovute all'incontro dei sensi con la materia l'anima che ha visione l'anima realizzata non è disturbata da queste cose tradotto significa che tu il dolore e la gioia non li puoi evitare in questo mondo sono propri di questa dimensione quindi tu non avrai mai una condizione di assoluta sofferenza o di assoluta gioia è impossibile tu puoi essere il multimiliardario ma tu avrai sempre questi perché sono propri di questo mondo materiale l'essere disturbato o no questa è la tua scelta perché dipende dalla coscienza che tu hai allora quando succede qualcosa di negativo la prima tendenza è quella di reagire diciamo ah perché proprio a me ma pure io sono bravo mi alzo la mattina faccio le pratiche spirituali medito faccio yoga e quell'altro lì invece è un disgraziato perché lui capita a me poi inizia a vederlo sotto un'altra prospettiva inizia a vederlo come delle opportunità oppure delle modalità per crescere a volte si cresce attraverso queste queste esperienze esperienze molto forti allora uno impara a vedere come non c'è qualcosa da buttare via e tutto la vita è un susseguirsi di esperienze che poi generano delle tendenze all'interno di questa vita e anche in quelle future che sono proprio legate alla comprensione che noi abbiamo di quello che ci sta succedendo quindi uno anche quando ci succede una cosa negativa dice ma qual è il messaggio che ti vuole lanciare a volte sono delle cose che ti mostrano quello che devi fare a volte delle cose di quello che non devi fare capito allora uno se uno ha questo spirito di osservazione inquisitivo e ha la visione spirituale le cose diventano molto chiare e per quello dice non ne sei disturbato perché quello va avanti per i fatti suoi quello va avanti così non è che tu puoi contrastarlo vedete che c'è ogni tanto c'è qualcuno che diventa molto ricco e cerca di crearsi una situazione assettica c'è un cantante molto famoso se l'ha creato una situazione totalmente assettica e poi non è durata perché è impossibile nel mondo materiale non è così nel mondo materiale gli adam gli adam gli apipo adam ogni passo c'è un pericolo e quindi non è che adesso lo chiudo in casa non faccio più nulla no le cose vanno e tu cerchi di comprendere cosa c'è dietro e cos'è l'insegnamento il punto è che se tu hai una coscienza spirituale alta diventi Abai Abai era il nome anche di Prabhupada Abai Abaiya in sanscrito significa paura Abai la negazione non paura non è più paura il nome di Prabhupada è Abai Ciaranaravinda perché non ha più paura perché Ciaranaravinda ha preso rifugio ai piedi di roto di Visso allora siccome tu sei legato a lui le cose vadano non c'è questo atteggiamento di sfida o così di presunzione di poter fare qualsiasi cosa c'è questa consapevolezza che non è sotto il tuo controllo quindi tu a quel punto vai e impari e cerchi di diventare uno strumento più diventi spiritualmente maturo e più tendi ad essere uno strumento di aiuto per te stesso e per gli altri la maturità che viene dal percorso che stiamo facendo e quindi tu hai persone che hanno questo livello di maturità indipendentemente dalla religione che stanno seguendo perché la religione è un mezzo quello che le persone che di città ti ha tua mamma tu non lo vedono come un fine invece la religione è un mezzo che ci consente di arrivare interessante è quello che dice Prabhava sono affluenti del fiume della conoscenza spirituale il quale fiume sfocia nella trascendenza capito? non è che dice io sono cattolico ad un paradiso c'è San Pietro e mi fa entrare e dice invece sono musulmano ci sono le sette vergini che mi aspettano sono induista c'è già Evijaya che aspettano lì alla porta e poi a seconda di come tu ti sei orientato nella tua vita ti dicono te vai di qua te vai di là te vai dall'altra parte non funziona così nello spirituale queste divisioni materiali non ci sono più sono percorsi che ti consentono di arrivare alla conoscenza spirituale le persone che non riescono a vederlo è perché sono un livello che in San Scritto si chiama canista ancora un livello iniziale il canista di caro è una persona che è ancora legato alle proprie tradizioni al proprio modo di vestire al modo pubblico di ragionare la propria filosofia la propria divinità ancora questa e vede gli altri come persone che allora a un livello più buono sono diversi a un livello meno buono sono da combattere da convertire no? e questo è una profondità ma Parapa dice questo livello che è quello comune nel mondo è molto pericoloso perché non fa fare avanzamento spirituale invece il Madiam è la persona che ha conoscenza di quello che sta succedendo e cerca di orientarsi allora non vede più quello che sta seguendo un altro percorso religioso come un antagonista lui lo vede come qualcuno che sta seguendo la Batti in un altro modo e basta allora poi se queste due persone si ritrovano insieme sarà un piacere ascoltare come fai tu come fa lui perché così se mai imparo qualcosa anch'io c'è questa modalità di scambio il problema è che sono la maggior parte ma quasi sono sul livello canista noi e voi allora tu adori Dio in un altro modo e ti dicono se stai sbagliando e perché sbagli che fanno tutti così gli altri tutti chi quelli che sono qua perché se vai in Egitto non so più come sono in un altro modo ma qual è lo scopo di quello che tu stai facendo di trovare l'amore per Dio allora se noi riusciamo a dare un input alle persone fagli non dire devi cambiare la tua modalità se c'è la croce come riferimento ma capisci cerca di capire più in profondità che cosa tu stai facendo che cos'è il tuo percorso questo è un grande aiuto non useranno una parola sascrita per identificarlo però il concetto è quello perché è così Cristiano non ho mai hai mai letto nella Bhagavad Gita nel Bhagavatam nominare un'area geoculturale geografica scritto da qualche parte gli Hindu sono quelli che questo è vai ci sono concetti universali che si applicano a tutti infatti Cristiano cosa dice ad Arjuna cosa lui dice cosa devo fare io per essere connesso con la vita spirituale lui dice pensa sempre a me quando guardi dice oppure agisci per me oppure donami frutti delle tue azioni e se non riesci neanche a fare quello coltiva la conoscenza ma ricordati che la meditazione è superiore alla conoscenza ha detto Hindu cattolici questo è il percorso non lo vuoi chiamare così chiamalo in un altro modo ma questo è il percorso questo è lo scopo del movimento per la coscienza di Cristo non è far diventare tutti indiani capito non è lo scopo dice adesso li convertiamo tutti all'induismo no noi non quando si arriva all'otto per mille noi non abbiamo ancora la possibilità di avere questa donazione diretta ma dice ma diamo agli hinduisti e io gli rispondo ma fai proprio quello che vuoi non è che se gli dai hinduisti fai meglio che darglieli ai cattolici se tu sai dove sei più ispirato a dare questa ma non è che uno è meglio dell'altro esatto io le comprovate che ho portato degli anni 5.000 c'è che la spiritualità il concetto di Dio comporta cantare ballare per me è una cosa molto normale per me è una cosa molto normale per me è un mondo dove aspetta allora aspetta ci penso anch'io se esiste perché questa sentiva come cosa non quella che ne hanno sempre in posto vieni tuoi chiesa cosa te la spiegano per spiegare se non so non è così io sono cresciuto tre freddi come tu come tutti quasi non sono spirituali sono molto materialisti io ho visto ce ne ho poi ipotiche come te spiegano le cose ad esempio come te ce ne so ma poi ce ne è non è così comune ci spiegavano non andavano sempre condizionale ci spiegavano le scritture ma in maniera molto superficiale la storia non c'è marco compresa spiegarci sentimenti non funzionano certo questo questo grosso problema perché sono sempre molto solo materiale ma anche dopo sono ma da confessarsi insomma spesso vedevo che trattano le cose abbastanza in maniera sempre materiale solo insomma c'è stato oggi il papa che ha dato un monito proprio ai preti ha detto i preti che pensano solo i soldi a fare quelle così dice non stanno seguendo le ordine di Gesù il papa l'ha detto a lui insomma anche lui diceva oggi giorno i preti sono le menge perché devono gestire tutta la parola gestiscono come dei manager perché ci hanno non lo so gli danno dei fondi non ho capito bene ma comunque si vede anche da sono dei manager non sono più però sai bisogna dividere dividere tra quello che è il messaggio profondo spirituale e da quello che è l'organizzazione che è la messa c'è bisogna fare una divisione io conosco delle persone invece molto coerenti preti anche 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 io preferisco non parlare di queste cose anzi piacerebbe se mai ci fosse un esponente di quella tradizione a parlare di queste cose è chiaro è chiaro che bisogna stare attenti ad una cosa perché una cosa è il messaggio che ha lasciato Gesù noi seguiamo quello e Gesù se vi ricordate lui è andato nei templi e li ha distrutti che l'abbia fatto figurativamente operato perché cosa ha trovato lui che non andava ha trovato della gente che faceva business allora lui ha detto ma qui non siamo per fare business che tu mi venda la statuetta perché ti aiuta a metterla e poi poi farò della sede va bene ma non deve diventare lo scopo della tua vita quello perché lui ha fatto quello però ha dato fastidio allora qualcuno ha cominciato a dire ma questo qua che vuole qui ci rovina tutto quanto infatti hanno poi preso dei provvedimenti nei suoi confronti per questo è un problema enorme e il problema dei leader religiosi è il problema più grande di tutti perché leader religioso non è qualcuno perché a un certo punto ha ricevuto uno stampino il religioso deve essere coerente con quello che fa secondo Iveda viene usata una parola che è acciaria acciaria è colui che insegna con l'esempio quindi non fa qualcosa di diverso di quello che dice allora uno deve avere questo tipo di divisione di intelligenza non è che perché tu appartieni alla mia religione con cui io sono cresciuto e sei a posto ma tu sei a posto nel momento in cui tu stai rispettando quello che quello che quello che le scritture dicono ma un esempio palese Gesù predicava la povertà il Papa sta nella ricchezza elettorale i cardinali sono blu stanno nella ricchezza elettorale in teoria loro dovrebbero stare poveri ma è tutto contro senso è un discorso molto lungo perché è anche vero che se tu vai a guardare nella tradizione per esempio noi facciamo riferimento ai goswavi di brindavana che vivevano con un pezzo di straccio letteralmente uno straccio addosso l'altro pezzo di straccio sopra oggigiorno anche in India se tu vai in giro così ti prendono per matto capito quindi a volte devi anche manifestare una certa opulenza perché così la gente ti prende seriamente però il punto qual è non è tanto quello di usare le cose e di non abusarmi capito quello è il concetto fondamentale perché quello che dice una cosa un grande maestro del passato che ruppa goswani dice prendiamo quello che è utile e lasciamo quello che non lo è capito molto sottile la differenza ma è fondamentale perché se la cosa è utile e quindi produce un qualcosa di positivo per te e per gli altri va bene se invece questo diventa un interesse personale un godimento personale sta andando contro la spiritualità esatto se invece diventa una modalità per cui attraverso tu la religione ottieni la ricchezza per un tuo godimento personale qui c'è qualcosa che non funziona allora questi leader purtroppo ce ne sono tanti in tutto il mondo anche in India e PM figurati di persone così queste non stanno seguendo infatti se voi guardate proprio gli insegnamenti di Prabhupada lui è molto tollerante con i materialisti in un certo senso dice questi sono la loro via lasciatevi stare che dice anche che c'è una Bhagavad Gita cioè in un certo senso non è che li accetto però insomma con i invece quelli che usano la spiritualità per altri fini lui è durissimo dice questi bisogna proprio togliere di mezzo perché sono la rovina di tutto perché loro stanno giocando sui valori profondi della gente per interessi personali quindi bisogna togliere bisogna eliminarli lui se la prende non se la prende con i preti lui mette tutti e parla di smart brahmana quelli che fanno il brahmana di professione che semmai sono molto bravi ti fanno tutti tutte le cose elaborate cantano i mantra con le tonalità varie così e poi dov'è la devozione che è lo scopo di tutto quindi bisogna da una parte diciamo le persone più ingenue no quelle che gli anziani che sono noi quello che possiamo fare del nostro piccolo cercare di aiutare noi stessi e queste persone ad andare in profondità perché tu dici sei cresciuto in un ambiente cattolico cos'è che identifico un cattolico? seguire i comandamenti e i comandamenti cosa facciamo? li seguiamo e poi se troviamo modo per aggirarli lo facciamo? oppure quelli sono gli strumenti che servono per diciamo per migliorare la tua coscienza quindi tu comprendi e cerchi di applicarli in tal senso se noi invece sarà sempre un cercare di c'è una regola noi cerchiamo di dribblarla cerchiamo di fare altro e stiamo mancando il risultato perché la regola non è quella che identifica che tu appartiene quello è uno strumento per crescere se tu non capisci quello e poi diventerà un'ossessione allora io perché devo fare quello? perché devo fare quello è uno strumento dove all'inizio semmai ti spinge a rinunciare a delle cose tiaga il rifiuto di alcune cose ma poi deve diventare un disinteresse verso determinate cose perché la tua coscienza è serita su di un alto livello questo è un discorso che penso che si sia chiuso grazie a tutti grazie a tutti